1 2 3 prova 1 2 3 prova eccoci qua in un nuovo gameplay con un gattone nella challenger no kill vittoria senza uccisioni il livello 6 e il livello 8 non lo vedrete perché mi hanno ucciso e ballavano pure mentre questa se tutto va bene dovrebbe essere il livello 10 cose cose mi sono spiegato o allora io vorrei trovare un paio di lama almeno vedevo regala maschina levo l'altro account me la devo regalare vi ricordo infatti che questo è l'account secondario a chiosco dove non si uccide è l'account pacifico niente lama per noi iniziamo in avverso la safe e devo trovare però devo via i pesci prima prima del non safe devo trovare i pesci e gli pesci ancora non lo ho trovati i pesci i pesci dove si mi pesci signori si pesca dalla barca signori si pesca dalla barca signori si pesca dalla barca il materiale accanto e materiali questo il seronte non mi hai visto non mi hai visto e anche voi l'anno avete visto nessuno di voi mi vede cazzo ma è una gioia meglio sembra sciverde tra la meretta non mi ha preso mai o sta scherzo capito almeno ma pure non è safe non mi ha preso non mi ha preso non mi ha preso non mi ha preso si vede materiali cazzo ho già finito i materiali non mi ha preso 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 ma non mi ha preso Grazie a tutti. 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 E vince ancora lui, il grande accattone, con questa prestazione direi molto paziente, come vediamo, 0 kill, 0 colpi, danni alle strutture 10 vele e 5.